Buongiorno, mi chiamo Martino, 21 anni e partecipo al Campiello Giovani 2021 con il racconto Blu Colomba. La storia è ambientata in una località marittima non meglio precisata e narra del fortuito incontro tra Livia e Andrea, conoscenti vecchia data che hanno imboccato strade differenti. I due decidono di cenare insieme e questa è l'occasione per aggiornarsi sulle rispettive vite e per tornare su memoria condivise. Come mai però la loro conversazione vibra di una sottile tensione?